Io avevo idea di fare un album dei Baustelli intitolato Elvis già mentre stavamo in tour con l'amore e la violenza e avevo perché pensavo che il prossimo disco di Baustelli dovesse essere un disco rock suonato così come effettivamente è stato già allora e avevo chissà perché l'idea di avevo fatto una foto ero a Napoli e avevo fatto una foto da ero imbottigliato su una bretella autostradale si vedeva il Vesuvio c'era una vecchia BMW davanti a me ferma in colonnata avevo fatto col cellulare la foto e mi immaginavo che quella fosse la copertina di un futuro disco dei Baustelli intitolato Elvis non so perché ho fatto questa connessione sulla targa della BMW avrei voluto scrivere Elvis poi vabbè la copertina è cambiata e sono molto contento con la copertina che abbiamo deciso ma evidentemente Elvis perché semplicemente è il nome più facile che mi veniva in mente quando pensavo a una forma di musica suonata sincera istintiva come il rock dopo il periodo di pausa dovuto al fatto che noi stessi avevamo imposto una pausa a un certo punto c'è stata anche magari una pausa non calcolata causata dal covid quindi siamo stati assenti da noi stessi a lungo e alla fine semplicemente banalmente per voglia di tornare a ad esserci tornare ad esserci peraltro in una maniera come dire di aggregazione di avevamo voglia di suonare insieme le band sono delle piccole comunità cosa ho portato io dentro Elvis del mio percorso solista credo sicuramente la capacità di di collaborare con con gli altri una cosa che ho imparato quando sembra strano ma ironia della sorte impari a collaborare con gli altri quando ti trovi solo e quindi sei costretto a più che quando sei in gruppo lo dai per scontato l'altro forse da solo sei costretto a ricostruirti una squadra e io me la sono ricostruito ho imparato ho imparato a imparare degli altri più più di prima mi sento più aperto più disposto alla collaborazione non so no no una cosa anche che bella che ho scoperto anche io perché comunque in un lavoro solista c'è la fatica la soddisfazione per fare tutto da sola no che in realtà poi perché dipende anche di rischi vuoi lasciare la tua zona di comfort perché insomma con cui hai hai convissuto per tanti anni poi a un certo punto ma è giusto così non so nella carriera di un artista penso che anche i cambiamenti esperimenti sono sempre necessari tornata nel gruppo che poi è secondo me un ritorno molto naturale nel senso che a un certo punto no andiamo ognuno fa le sue strade i suoi viaggi ma a un certo punto è come se ci fosse una chiamata una vocazione chiamata interna che ci rimette al tavolo insieme c'era tanta voglia di mettersi al lavoro anche un altro modo molto più diretto e più sincero e di suonare insieme no a vedere quello che veniva fuori con una direzione ben precisa abbiamo deciso e che era quella del rock and roll e una volta tornata nel gruppo quello che posso vedere che ho preso delle sicurezze sicuramente ho preso anche tante sono tante cose anche dagli altri musicisti e che mi ha dato un po la forza la voglia di così anche una consapevolezza di cercare la qualità in quello che faccio non la quantità quindi anche togliersi per fidarsi del musicista che accanto che ti è uno scambio continuo insomma quindi ecco mi ha portato la pace forse un po di serenità per quanto riguarda il mestiere musicista sarà tutto più suonato e tutto più live tutto più probabilmente più difficile ma insomma sarà divertente no io non c'è mai lo dico perché così che tre mani avanti